Benvenuti, bentornati a 30 minuti, il nostro programma d'approfondimento legato oggi ad una storia strana, una commedia, una farsa è stata chiamata da tanti, è una storia nata nel calcio, poi finita però nella cronaca giudiziaria, una storia che è appunto nata nel calcio e finita nelle aule giudiziarie. È la strana storia di Calciopoli e vogliamo raccontarvela oltre quello che si possa pensare sulla colpevolezza, sull'innocenza di Luciano Moggi, che poi come sapete è il principale protagonista di questa storia. È la strana storia anche di Antonio Dattilo, ex arbitro della sezione di Locri, che oggi come vedete è venuto a trovarci. Benvenuto. Buongiorno, grazie per la vostra disponibilità. Insomma, è una storia davvero strana, come abbiamo detto all'inizio, durata quasi nove anni, condannato in un primo momento di un anno e tre mesi, poi a dieci mesi e poi totalmente scagionato. Cosa c'è in questi quasi nove anni? Beh, io credo che in questi nove anni abbiamo assistito a una commedia teatrale e lo sto sostenendo da dopo che ho ricevuto la piena assoluzione da parte della Cassazione. Una commedia teatrale è durata in tre atti. Primo atto è il processo di primo grado, poi passiamo all'appello e poi siamo ritrovati in Cassazione. È stato un periodo molto lungo di sofferenza, di forza e di coraggio, perché non è facile essere messi alla porta, prima dalla Federazione Italiana a gioco calcio e poi dalla giustizia ordinaria e poi ritrovarsi dopo nove anni con un pugno di mosca in mano. A me sinceramente questa sentenza non mi gratifica, l'ho detto sia i giornali, quelli che mi hanno intervistato, altre televisioni, e ne me ne orgoglisce, assolutamente non mi rende proprio soddisfatto, anche perché quello che mi hanno tolto nessuno me lo potrà ridare. È una sentenza di piena assoluzione per non aver commesso il fatto e senza rinvio a giudizio addirittura, da parte della terza sezione della Cassazione di Roma, che dedico alla mia famiglia, sicuramente, ai miei figli, ho tre figli in tenera età che hanno visto il padre soffrire in questi lunghi anni, e soprattutto a quelle persone che mi sono state vicine, però non mi restituisce nulla di quello che mi hanno purtroppo tolto. Tutto ebbe inizio in una partita, era il 26 settembre del 2004, in calendario in Serie A c'era Udinese-Brescia, affidata al signor Antonio Dattilo della sezione di Locri. Per gli investigatori il killer che avrebbe dovuto decimare l'Udinese in vista della partita della domenica successiva dell'Udinese proprio contro la Juventus. Sì, questo io vengo accusato della situazione delinquere a fine della frode sportiva proprio in merito a questa gara, nel senso che io avrei commesso atti dolosi nei confronti dell'Udinese, ammonendo Muntari, Pinzi e Di Michele ed espellendo Jankulowski. Allora i signori Muntari, Pinzi e Di Michele, per chi magari non se lo ricorda, non erano diffidati, perché qua stiamo parlando della terza giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2004-2005. E quindi giocarono tranquillamente? Sì, hanno giocato tutti e tre l'incontro con la Juventus la settimana successiva. In più il signore Jankulowski è stato espulso dal sottoscritto, ma dietro segnalazione dell'assistente Camerota. Testimoniato anche in aule di giudizio. In quel caso là, loro basavano la mia accusa perché il signor Giraudo, tre minuti dopo la fine della gara, chiamò il signor Moggi e disse testualmente, hai visto la partita udinese-Brescia, il signor Moggi rispose, questo è dagli atti, non me lo sto inventando io, no, dice ho visto un'altra partita. Beh, e Giraudo replica, se l'arbitro d'Attilo era sveglio, quindi era sveglio, dimezzava l'udinese. Questo è virgolettato nella... questo è quello di cui mi accusano. Io ho dimostrato sia nelle indagini preliminari, poi quando sono stato rinviato a giudizio e in fase di primo grado, con il mio referto, con l'audizione di Ciro Camerota, con le decisioni del giudice sportivo, dove dimostrava chiaramente che Montari, Pinzi e Di Michele hanno giocato la domenica successiva e che Giancolowski era stato espulso, l'ha sottoscritto dietro segnalazione dell'assistente, non ci fu verso, io ancora pagavo questo tipo di... tutto si basava su questa accusa qua. Spiegate tutto a secondo grado. No, no, voglio soffermarmi perché è un passaggio molto importante a questo, perché la gente probabilmente, quelle che ci guardano oppure che non hanno seguito bene gli eventi di questo processo, devono sapere che io, dopo Udinese e Brescia, fui sospeso per giorni 30 perché commise un errore tecnico di valutazione, gol di Mannini con il portiere De Santos a terra, dopo aver subito un fallo stesso. Io non riuscì a valutare bene quella situazione là. Ho sospeso un mese, poi ho fatto tre mesi di Serie B, arbitrando in Serie B, e poi ho ripreso a gennaio del 2005 con Parma Udinese. La stessa Udinese. La stessa Udinese. Quindi chi sosteneva che il sorteggio era truccato probabilmente è smentito. La pressione sarà stata... Se Dattilo viene sospeso per Udinese e Brescia, poi rincontri in Serie A la prima gara di riqualificazione da parte mia nel massimo campionato, ancora Udinese, mi sa che Conti non torno. Poi, se io facevo parte di una cupola, non penso che venivo sospeso per giorni 30, non avrei arbitrato tre mesi di Serie B, quindi sarei stato tutelato dai signori Bergamo e Pairetto, se erano influenti, come si dice, nelle carte processuali con il signor Moggi, con il signor Giraudo. E poi, e chiudo, nella stagione 2004-2005, il sottoscritto non ha mai diretto la Juve, né in amichevole, né in Coppa Italia, né in campionato. Quindi, io come faccio a far parte di una cupola, così è stata definita, se non ho mai diretto la Juve in quella stagione, qualcuno forse dimentica che nella stagione successiva ho diretto la Juve, io. Nel 2005-2006. Ma le indagini sono racchiuse, stagione sportiva 2004-2005. Leggendo un po' le carte, si arriva poi a quel famoso contatto tra una scheda svizzera, tra l'altro in prossimità, scrivono i giudici della gara udinese-Brescia, anche se poi verrà chiarito che il contatto c'è stato tra questa scheda svizzera e Moggi, ma qualche mese dopo, una scheda che doveva essere in suo possesso. Sì, allora, il discorso della scheda è questo, che me l'attribuiscono circa 60 giorni dopo la direzione di un'ese-Brescia, quando io avevo fatto un mese di sospensione, venivo designato per gare di serie B. Il discorso è che, se voi avete letto, il 27 gennaio, il signor De Cillis, quello che dichiarò di essere stato, quello che ha fatto da tramite il signor Moggi per andare in Svizzera a comprare queste benedette schede, è stato rinviato a giudizio, per far questa testimonianza. E questo, secondo me, è stato un tassello che ci ha aiutato a livello di Cassazione, perché il procuratore generale, il dottor Mazzotti, in questo caso ha letto benissimo le carte. Il signor De Cillis, c'erano un sacco di contraddizioni poi alla fine, perché presentò un elenco su un pezzo di carta scritto a mano, poi nell'aula di giudiziario è arrivato un foglio ciclostilato, con questi numeri di queste schede, schede che poi non avevano contatti vocali, dicevano, hanno sostenuto che c'erano i contatti, ma non c'erano le conversazioni. C'è un discorso un pochettino strano, io non ci ho capito niente su questo fatto qua, perché poi a distanza di tanti anni c'è un pubblico ministero, chiede il rinvio a giudizio e viene rinviato a giudizio per falsa testimonianza, questo signore, e contro il quale ci costituiamo tutti parte civile, naturalmente. Tanti punti interrogativi, insomma, ormai è chiaro, però anche lì in appello viene condannato a dieci mesi. Sì, in appello mi viene confermata la condanna a dieci mesi, con delle motivazioni che io sinceramente ho letto un paio di volte, molto attentamente ed approfonditamente. Vogliamo ricordarle? E non mi sono fatto, in questo momento mi sfugono sinceramente i vari passaggi, però erano motivazioni molto strane, a differenza del primo grado. C'erano delle contraddizioni che neanche attraverso i miei legali sono riuscito a capire bene quello che volevano significare, specificare i giudici nella mia condanna. Tanto che in quella fase lì, quando vennero pubblicate le motivazioni, mi telefonò Roberto Peccantini, lo conosciamo tutti, lo conoscete tutti, che io non conoscevo personalmente, ma solo per nomea, il quale trovò il mio numero di telefono, mi contattò ed era molto amareggiato per la mia condanna in appello, perché mi ha detto, caro signor Dattoli, io ho letto le motivazioni, e mi creda, con tanti anni di esperienza giornalista che ho sulle spalle, ho seguito di tutto nel calcio, non riesco a farmi una ragione o a capire perché lei è stato condannato con queste motivazioni. A me è pensato che la sua condanna fosse funzionale a reggere quella di Moggi? Assolutamente sì, quella di tutti gli arbitri, perché poi vedete, alla fine questa è una barzelletta, ecco, lei ha aperto questa puntata sottolineando che è stata una farsa, e lo confermo anch'io, anzi, ne sono proprio certo, perché loro hanno fatto un bel calderone all'inizio, forse eravamo 40 o un giro di lì imputati, adesso non ricordo, alzi salvi chi può, perché un'associazione a delinquere, a fine della fraude sportiva, deve essere portata avanti da un reggente o dei reggenti, e poi i gregari, noi saremmo stati i gregari, per come hanno sostenuto i pubblici ministeri, Beatrice e Narducci in primo grado, e poi l'altro pubblico ministero nel processo di appello, e qualcuno ha preferito fare l'ordinario, qualcuno l'ha abbreviato, tipo Tiziano Pieri, mio ex grande amico, mio amico, mio grande amico, ed ex collega ha fatto l'abbreviato, in primo grado ha preso 3 anni e 4 mesi, in appello è stato assolto, c'è una cosa un po' strana, anche il signor Giraudo ha fatto l'abbreviato, e invece noi abbiamo, io ho voluto fare l'ordinario, perché ci volevo vedere chiaro, nella mia situazione, sono anche consigliato dai miei legali, però, c'è stato qualcuno che è stato assolto in primo grado, qualcuno in appello, io sinceramente in Cassazione non ero fiducioso. Ci arriviamo, perché arrivate in Cassazione, lei mi diceva prima, insomma, anche di iniziare questo appuntamento, non era molto fiducioso. No, assolutamente no, non ero fiducioso, perché eravamo rimasti, allora, Bracalbuto aveva accettato la prescrizione, io invece, io, Bertini e De Santis, nel marzo del 2014, abbiamo rifiutato la prescrizione. Per provare proprio la vostra innocenza. Io penso che quest'atto di coraggio, per me, Bertini e De Santis, poi De Santis purtroppo leggeremo le motivazioni per le quali è stato condannato, abbiamo avuto un coraggio, penso, al di sopra di ogni sospetto, se così si può dire, perché rifiutare la prescrizione e andare fino in fondo, cioè voler essere giudicati dall'ultimo grado di giudizio, cioè la Cassazione, è un rischio altissimo. Io l'ho fatto perché avevo e ho la coscienza pulita, quindi ero straconvinto della mia non colpevolezza in questo processo, durato nove anni, e soprattutto mediatico, non ci dimentichiamo che siamo stati buttati in pasto a televisioni, a giornali, per mesi, anni, fino a qualche anno fa ancora si parlava, poi la cosa è andata a scemare, non ci dimentichiamo che si è parlato del 2006, 2007, 2008, 2009, le prime udienze, siamo stati seguiti da tutte le televisioni nazionali, internazionali, di tutto il mondo, in uno dei tribunali a Napoli c'erano più giornalisti che imputati a televisione, in quelle circostanze là, e quindi qualcuno si è salvato, qualcuno poi ha continuato questo calvario, che per noi poi, per me e per Bertini si è chiuso positivamente in Cassazione, per Massimo De Santis, adesso io vorrei capire come un arbitro può passare due stagioni sportive, o tre stagioni sportive da solo, insieme ai prescritti Giraudo Moggi, e tutti gli altri che sono stati messi in questo calderone. Cosa le manca di più di questi nove anni? Cosa le hanno tolto di più? Mi hanno tolto il... non il lobby, perché poi è diventato un mestiere, per me come per gli altri, di far rispettare le regole del gioco e del calcio, sia da quando ho iniziato, nei campionati dilettantistici, che quando poi sono approdato alla massima serie, perché io credo che l'arbitro deve essere corretto, imparziale, sia se vado ad arbitrare una gara dei campionati regionali o provinciali dilettantistici, oppure quando si va ad esibire nei palcoscenici nazionali. mi manca questo. Questo me l'hanno tolto e nessuno me lo potrà mai ridare. Sinceramente è la cosa che mi è mancata di più. Se devo essere schietto e sincero davanti alle vostre telecamere, vi posso assicurare che l'arbitraggio ora non mi manca più. Non le manca più? Perché me l'hanno fatto odiare. No, 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 no. L'odio è un sentimento che non ho mai provato per nessuno, forse neanche per il mio peggior nemico. Non mi manca perché mi hanno fatto perdere quella voglia e quella passione. È deluso. Sì, di prendere un fischietto e far rispettare le regole e fischiare in mezzo a tanta gente. Questo lo confermo. È stato sbattuto sui giornali, sulle televisioni. Mi diceva, poc'anzi, lei ha saputo di essere finito in questo tornado chiamato Calciopoli proprio dai giornalisti. Ha ricevuto dopo la comunicazione. Sì, io ho appreso il mio coinvolgimento in questa situazione qua, nel lontano aprile, se non sbaglio, del 2007, leggendo Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport. Sì, prima mattina. Compravo quando uscivo per accompagnare i miei figli a scuola, compravo tutti i giornali, ho visto che ero già messo in prima pagina e dopo qualche periodo ho ricevuto un avviso di garanzia. Quindi sono stato informato prima dalla stampa e poi dall'autorità giudiziaria che c'erano delle indagini in corso anche nei miei confronti. E poi a distanza di 4-5 mesi ho ricevuto il rinvio a giudizio, mi hanno rinviato il rinvio a giudizio, sì. E poi subito ho partito l'Ital con dei legali, sono andato a Napoli, sono seduto con gli avvocati, abbiamo trattato, discusso il problema ed era, ripeto, anche loro, io diciamo la verità ai miei legali, loro erano molto fiduciosi. Mi hanno detto, caro Antonio, non ti preoccupare, qua ne esciamo fuori perché la situazione tua è proprio marginale. Perché l'errore che secondo me è stato fatto dai pubblici ministeri, soprattutto nel primo grado, dai dottori Beatrice e Narducci, è stato quello di non valutare la posizione di ogni singolo imputato, soprattutto tra gli arbitri. Questo è stato l'errore, secondo me. Altrimenti io non sarei qua in questo momento, anzi sarei venuto qua forse qualche anno fa. La mia posizione sarebbe stata chiusa già nel primo grado, perché io ero fiduciosissimo, ero molto fiducioso nella soluzione a fine primo grado di giudizio. Invece poi, perché questa benedetta associazione, lo ripetiamo ancora una volta, non poteva reggere se non c'era il contorno di arbitri e di assistenti. Poi non ci dimentichiamo che noi dobbiamo in un certo senso ringraziare il signor Moggi, io in prima persona, anche perché l'ho conosciuto forse più visto nell'aula di tribunale che sul campo, perché sul campo l'ho visto pochissime volte, che arbitravo la Juve, lui veniva in modo educato e corretto, a fine partita, mai prima della partita, ci faceva i complimenti, sia se vincevo oppure se c'erano stati problemi, complimenti e basta, arrivederci, questo è il saluto. Poi nell'aula di tribunale, purtroppo con i legali e con tutti gli altri, ci siamo dovuti pure confrontare. Ringraziarlo perché? Perché ha avuto, a tutta la forza economica in quel momento là, di ingaggiare, se così posso dire, il dottor Penta, che è un perito informatico, che è Emiliano, il quale ha sbobbinato tantissime telefonate a favore della difesa, telefonate che purtroppo, durante le indagini che hanno svolto i carabinieri del nucleo di Napoli, comandate dal colonnello Auricchio, non sono state evidenziate, non si capisce perché sono state nascoste, quelle che c'erano, lo dico perché sono gli atti che lo dimostrano poi, c'erano tra il signor Facchetti, che ora non c'è più, mi dispiace, con i designatori, quelle che c'erano tra Meani e il signor Collina, quelli che c'erano tra Bergamo e altri dirigenti, i Gagliani pure, perché non solo il signor Moggi parlava con Bergamo, Pairetto, con Mazzini e altre persone delle istituzioni calcistiche nazionali, e questo ci ha aiutato naturalmente a venirne fuori, perché c'erano tante cose nascoste e noi non siamo riusciti mai a capire il perché. Quando sono venute fuori queste telefonate, perché sono state poi portate nelle ole dei tribunali, poi c'è stato un contraddittore naturalmente tra accusa, testimoni e difesa. Quella che sembrava una cupola, in cima alla quale c'era Moggi, che poi man mano si diramava, è stato provato, lei lo sta raccontando, non era solo Moggi che parlava con le varie spaccettature del calcio italiano, è stato provato che anche Facchetti, anche Gagliani, anche qualcun altro. La mia domanda è, lei paradossalmente, se vogliamo, portandola fuori con un punto di vista esterno, che idea si è fatta? Perché è successo tutto questo? È successo perché volevano colpire la Juve, io credo. Adesso a distanza di giorni della sentenza della Cassazione volevano colpire la Juve, non so se i vertici, Moggi, Giraudo, questo mi interessa poco, però io credo che è stato un discorso che è andato, sia stato montato per colpire la Juve. La Juve magari nei suoi dirigenti di quel periodo, che erano il signor Moggi, Giraudo, c'era pure Bettega, poi Bettega non è stato mai, ne è coinvolta, ne è inquisita in questa situazione qua, però non si spiega, diversamente non si può spiegare quello che è successo. io mi faccio mille domande, adesso ancora non ho neanche metabolizzato al 100%, perché poi uno si chiede va tutto al ritroso, cioè riavvolge tutto il nastro e non ci si capisce niente, perché non è facile, credetemi. io sono forte, sono coraggioso, affronto le cose con la massima tranquillità, però sono pure arrabbiato, perché una volta che si riavvolge e lo si fa ripartire il nastro, i conti non tornano. Dico, ma perché proprio noi? Perché io non parlo soltanto di me stesso? Sarei un ipocrite di tanti altri suoi colleghi. Hanno eliminato Dattilo, la famiglia di Dattilo, i genitori di Dattilo, i figli di Dattilo, gli amici di Dattilo, i fratelli, quelli che mi sono stati vicini, tutti gli arbitri. Cioè, hanno rovinato tante famiglie. Non solo la carriera, ma la vita. Ma sì, ti segnano, perché poi io, fino a una settimana fa, ero etichettato come un uomo sporco. Nonostante svolgo la funzione di dirigente in una società di lettantistica nella provincia di Cosenza, ero etichettato ancora come un uomo sporco. Cioè, Dattilo delle schede di moggi, delle partite comprate, vendute. Non è... Mi hanno... Cioè, hanno... Ci hanno finalmente ridato un po' di dignità, credo io. Non ci ridaranno quello che ci hanno tolto, ma almeno un pizzico di dignità. Perché i miei figli, un giorno, potranno dire viaggiare a testa alta e gli spiegherò un domani, perché ancora sono piccolini, quello che è successo al padre. Potranno dire papà è stata una persona ligia, corretta, ha fatto sempre il suo lavoro con la massima professionalità. Riavolgendo ancora più indietro il nastro e forse probabilmente le fa ancora più rabbia, quanti sacrifici ha fatto per arrivare lì in Serie A? Una vita. Ho iniziato a fare l'arbitro a 16 anni e mezzo con un altro mio amico che giocava a calcio in prima categoria nel mio PSG e poi ho deciso di smettere e ho fatto il corso così, tanto su indicazione di un... di un mio carissimo amico che ancora è un dirigente arbitrale e ho fatto il corso e poi mi sono subito appassionato. Ho iniziato dai giovanissimi, ho fatto l'esordio nel 1989, giovanissimi locali. Quindi tutte le categorie poi, anche più difficili. Ho fatto la terza categoria, ho fatto la seconda, ho fatto la prima categoria, ho fatto la promozione. Devo ringraziare i dirigenti, i vecchi dirigenti che mi hanno cresciuto, devo ringraziare sempre i vari presidenti di sezione, la sezione di Locri che sono succeduti, il grande bombardiere che era mio designatore regionale, il dottor Nino Cosentino che era presidente del comitato regionale Calabro in quel periodo là. Tutti mi volevano bene. Cioè io poi ho fatto l'ISEF, ho fatto il militare a Catanzaro, avevo tantissimi amici, ce l'ho ancora. Quindi questo mi ha fatto crescere tutto come uomo. Come uomo. E poi ho bruciato le tappe. Proprio la mia è stata, io in meno di 11 anni sono arrivato in Serie A. Infatti ero il più giovane arbitro in Serie A. Io sono arrivato in Serie A a 29 anni. Pieri era arrivato qualche, la stagione prima di me, sì, era arrivato un anno prima perché anagraficamente era più giovane di me. E non ci dimentichiamo che io dovevo essere promosso al mio secondo anno di Serie C. Perché ho fatto un campionato di Serie C strepitoso. Non sono stato promosso perché dicevano che ero ancora giovane. Altrimenti avrei anticipato ancora un anno. A 28 anni ero già in Serie A. E oggi chi è invece Antonio Dattilo? Antonio Dattilo è un uomo quello che è stato sempre. Sono una persona corretta, svolgo questa funzione adesso, poi mi sono dimesso dall'AIA nel 2009 per mia spontanea volontà perché ero in disaccordo con l'AIA nazionale, con la federazione, perché è stata la federazione. Non ci dimentichiamo che ci ha processato nell'arco di tre mesi, in primo grado dell'appello, ci ha buttato fuori, ci ha inibito per un anno e sei mesi. Poi tutti un anno e sei mesi abbiamo preso. Non si capisce scientificamente come uno... Ognuno... Cioè, ognuna situazione è ben diversa. Siamo stati processati per lo stesso reato, secondo loro. E processati con le carte delle indagini. Spieghiamoci. Sì, spieghiamolo meglio. Non con la sentenza di primo grado, assolutamente. Siamo stati sospesi in via cautelare per sei mesi. Ancora sei mesi e poi siamo stati messi alla porta. Poi c'è il Tribunale Sportivo. Sì, sì, sì. Fu adiuvato dal dottor Palazzi, naturalmente. Dove io ho partecipato, sono stato sempre presente all'udienza. Poi mi sono dimesso perché non mi andava bene questa sentenza che mi ha dato la giustizia sportiva. Non la meritavamo proprio. Quindi ho lasciato l'aia. Poi ho fatto il corso di dirigente qua in Calabria con un corso che fa il presidente Mirarchi annualmente. Fanno questi corsi di dirigente sportivo. Mi sono abilitato e adesso svolgo la funzione di direttore generale a Roggiano Gravina per il Roggiano Calcio dove è una società seria, mi ci trovo bene, stiamo facendo un buon lavoro. Sono le persone che mi hanno accolto a braccia aperte e hanno creduto sempre nella mia innocenza queste persone. Come anche quando ho lavorato a Bocale ci hanno creduto a Siderno, a Gioiosa, ho avuto una piccola parentesi pure a Scalea con degli amici, collaboravo pure con loro. E sono queste. è ripartito dal basso, però lei ha detto che se qualcuno glielo chiedesse non rifarebbe mai l'arbitro, però lo sport ce l'ha dentro, il calcio ce l'ha dentro. sì perché io credo, io ho sempre sostenuto che arbitro si nasce, non si diventa. E io probabilmente lo nacque come diceva il buon Totò perché è stata sempre una cosa che mi ha appassionato dall'inizio e non ho mai perso quella grinta anche se superando le varie categorie, cioè facendo gli scambi la Serie D, poi c'era la C, c'era la C2, la C1, adesso è un pochettino diverso, c'è la Lega Pro, A e B, sono distaccate però collaborano i due disegnatori, i due coordinatori della commissione, era molto difficile una volta poter, credetemi, arrivare lì in alto. Perché i campionati erano difficilissimi, erano molto difficili, però con grinta, passione, sono stato sempre uno che ha curato l'aspetto atletico. E' fondamentale. Secondo me è fondamentale, sì sì. Un buon arbitro deve avere una preparazione atletica perfetta, eccellente ecco, se è il termine che si può appropriare, eccellente proprio. Se viene a mancare la preparazione atletica e soprattutto la lucidità, nei momenti importanti, fondamentali e cruciali l'arbero non può prendere la decisione giusta, anche se l'errore è sempre dietro l'angolo. Io mi ricordo che noi arbitravamo in quattro in Serie A. Adesso sono sette. Adesso sono sei. Sei. Mi insegnate che gli errori se ne vedono domenicalmente, settimanalmente, anche a livello europeo e quindi le migliorie dove stanno? La tecnologia che cosa ha portato? Noi avevamo le bandierine che vibravano sul braccio destro, sinistro, adesso c'erano gli auricolari, parlano tutti e sei, molte volte non si capiscono perché ripeto credo che fare l'arbitro non è facile, non è facile. Poi adesso c'è stato un ricambio generazionale, sono parecchi giovani. Tantissimi giovani. Io l'anno successivo dovevo fare l'internazionale, io non ci dimentichiamo che ho arbitrato 29 gara di Serie A, quasi 80 di B, 25 di Coppa Italia, ho fatto 4 esperienze all'estero come quarto uomo in Champions League, con Farino e Real Madrid da Arsenal, ero giovanotto io. Era nel clou della sua carriera. 33 anni avevo io, cioè proprio giovanissimo. ho fatto con Rosetti Ajax e Tuno un'altra gara da quarto uomo di Champions League in Olanda, ho stato con Bolognino in Ucraina, ho fatto le mie esperienze, quindi ero già pronto per fare, perché poi c'è un ricambio generazionale anche tra l'unità nazionale. L'Italia, se non erro, ancora ce n'ha 10, quindi ogni anno per limite d'età qualcuno doveva uscire. E noi, io ero quello che mi stavo affacciando a questo e ancora sarei stato in campo. Non ci dimentichiamo che ho 43 anni, devo compiere 44 ancora. Se avessi fatto l'internazionale avrei arbitrato fino a 45, probabilmente con un anno di deroga, perché poi la Commissione può pure proporre una deroga per arbitrare fino a 46, facendo l'internazionale di un certo livello naturalmente, come lo fa tipo Rizzoli. Certo. Rizzoli è transitato dalla C alla Cannebbi con me. E adesso è il numero uno degli arbitri italiani. È il numero uno al mondo, è uno dei migliori arbitri del mondo. Sa arbitrare, io l'ho sempre stimato, lo stimo ancora adesso a distanza di tanti anni che non ci vediamo per ragione perché lui è già impegnato. Consiglierebbe a qualcuno, a qualche ragazzino come poteva esserlo lei a 16 anni, a 14 anni, a 15 anni di intraprendere la carriera di arbitro. Sì, io lo consiglio perché io credo che l'AIA ha bisogno di arbitri, di nuove Linfe, di gente che si affaccia a questo mondo perché una partita senza un arbitro non può essere una partita ufficiale, una gara ufficiale. Possono soltanto gli amichevoli con un arbitro ma il partito ufficiale se non c'è l'arbitro non c'è l'arbitro. Ai miei figli no, ai miei figli credo di no. No, non darei mai questo consiglio, soprattutto ai due maschietti, la femminuccia lei ha due maschietti e una femminuccia? Io ho una femminuccia di 13 anni, Roberta, Alessio di 11 anni. Un bel nome Alessio. Sì, infatti, un bel nome Alessio e poi piccolo Matteuccio che è quello che secondo me mi darà le più grandi soddisfazioni perché sarà un grande calciatore. Sì, sì, io non ne mastico tanto di calciatori perché non mi occupo di tecnico, non mi piace occuparmi di calciatori però da quello che ho potuto vedere sarà un buon calciatore, mi darà qualche soddisfazione. invece Roberta, Roberta fa la palla a volo e quindi è uno sport ben diverso ma i miei due maschietti non consiglierei mai di fare l'arbitro assolutamente perché rischiano di buttare tanti sacrifici poi al vento no, perché magari potesse capitare quello che è capitato al padre, ci mancherebbe altro. Io penso che quello che è capitato a noi non capiterà neanche per i prossimi 200 anni, forse 300. C'è un altro calciopolo non ci sarà mai secondo me, no. Calciopoli si è fermata qua anche perché non voglio entrare in merito però voglio dire sono tante cose che non funzionano. La giustizia sportiva deve essere rivista immediatamente. Non ci potevano, non è giusto essere trattati in quel modo. A livello sportivo parlo io. Esa qualcosa nel nostro periodo la regina con Foti insomma sempre questo rapporto un po' particolare con Palazzi insomma poi sono discorsi che ci hanno voltato le spalle non è giusto che non meritavamo questo perché siamo stati sempre corretti l'anno purtroppo la legge e la giustizia italiana a distanza di tanti anni di meno che l'ha dimostrato nella sede opportuna. Bene così noi avremmo voluto raccontarvi ancora di più avremmo voluto far parlare e spiegare ancora meglio al signor Dattilo quella che è stata la sua strana storia abbiamo iniziato proprio definendola così Calciopoli è la strana storia di Antonio Dattilo che ringrazio. No io grazie a voi siete stati gentilissimi anzi è bene sottolineare che adesso è giusto che noi parliamo diciamo la nostra perché noi io almeno in prima persona ho toccato nove anni non è facile toccere per lunghi nove anni io non sono uscito sul giornale non ho fatto dichiarazione non ho fatto nulla sono stato sempre chiuso nel mio io per aspettare per dimostrare effettivamente che la mia piena estranetà a questi fatti è quello che mi veniva attribuito e adesso ringrazio tutte quelle persone le varie trasmissioni locali provinciali che mi state dando l'opportunità di poter esternare quello che avevo dentro anche se il tempo è poco e non possiamo però è giusto che la mia voce si faccia sentire in questo momento ma non per avere rivendicazioni confronti di nessuno perché qua e poi chiudo perché il tempo penso sia già scaduto cioè adesso quello che mi domandano la gente la prima cosa che mi domanda la prima cosa adesso quanti danni ti dovranno pagare come farai che risarcimento danni chiederà la federazione ma qua non è un discorso economico soltanto è un discorso di dignità è stato tolto ben più alto che io vado ad improntare adesso dopo le motivazioni una causa contro la federazione di chi non gioco calcio per chiederanno i morali di immagini di quello che mi è successo è molto semplice così è semplicissimo quindi non bisogna guardare quel lato là bisogna andare al ritroso e veramente cercare di affinché queste cose non succedano più non devono accadere la giustizia si deve dare una regolata perché è impossibile che possa accadere una cosa è accaduto a noi che si finisca qua ma che non non deve non deve accadere più quindi non parliamo né di risarcimento è un discorso che poi avrà i suoi tempi tecnici adesso non penso proprio a questo discorso qua adesso penso a godermi i miei figli a contribuire il mio lavoro a vedere i miei genitori che sono più felici che sono contenti in questa fase qua gli amici più stretti ringrazio quegli amici che si sono abbissati e dileguati in questi nove anni che adesso sono ritornati però non ho bisogno di queste persone succede sempre così ringrazio tutti questo è un ringraziamento che va a tutti voi al vostro editore a lei pure che mi ha dato questa possibilità a quelli che me la daranno nelle prossime settimane quindi non è un discorso di fare causa federazione adesso ci confrontiamo ci guardiamo questa Pasqua poi ci confrontiamo e vediamo quello che succede in bocca al lupo Antonio D'Arto crepi e grazie ancora a voi e buon lavoro e grazie anche a voi che continuate a preferirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti